Ti rivolgiamo la nostra preghiera. Santa Marta. Con la serena fiducia di essere da te ascoltati ed esauditi. A te che hai fatto l'esperienza gioiosa dell'amicizia di Gesù. Noi chiediamo la grazia di poter vivere ogni giorno la comunione di amore con il Signore. Di coltivare sincera avversione per il peccato. Di aspirare a crescere nella santità. A te che hai avuto il privilegio di servire Gesù nella tua casa. Noi chiediamo la grazia di non dimenticare mai che. Servire Dio è regnare. Di saper riconoscere il volto del Signore nei poveri. Nei bisognosi e nei sofferenti. Di vivere il primato della carità. A te che non è mancata la fede alla morte del tuo fratello Lazzaro. Noi chiediamo la grazia di credere con fermezza che Cristo è risorto e vivo. Di attendere al di là della morte l'eternità beata del Regno di Dio. Di proclamare con coraggio e con entusiasmo. Che Gesù è l'unico Salvatore del mondo. Accompagna il nostro cammino. Santa Marta. Mentre varchiamo le soglie del terzo millennio cristiano. Vivendo rivolti al Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santa Marta. Prega per noi. Ciao. Questa è la sua cura. Grazie a tutti.